CISPAN è una televisione via cavo statunitense che offre agli spettatori notizie e attualità sugli avvenimenti di tipo politico che si svolgono negli stati della federazione per altri video con lo stesso argomento avete la possibilità di aprire la playlist Geoingegneria attraverso il fornito indice alfabetico o tramite la playlist di Canal 104 Plus YouTube a casa per un soldato russo all'estero grazie Sir Fletcher andiamo avanti un'altra domanda sull'intervista al Los Angeles Times del 21 aprile ha detto questo ha detto all'Associated Press che il governo americano ha creato tecniche di alterazione climatica in modo che il nuovo ordine mondiale possa far morire di fame milioni americani e controllare tutto il resto può spiegare cosa stava cercando di dire? bene, quello che stavo cercando di dire è esattamente quello che ho detto esistono tecniche di controllo meteorologiche abbiamo un pacchetto completo al riguardo che non ho portato con me ma sicuramente farò in modo che venga presentato per la cronaca numero uno tutti i brevetti sull'attrezzatura numero due la dichiarazione completa del senatore Claibor Pell e la sua storia secondo cui non solo esiste ma che lo utilizziamo addirittura fin dalla guerra del Vietnam potreste voler entrare in contatto con il senatore Pell voglio solo ripetere prima di passare la domanda abbiamo tutte queste informazioni sta dicendo che il governo ha creato tecniche di manomissione del clima in modo che cito il nuovo ordine mondiale possa far morire di fame milioni americani in tutto il mondo milioni americani e controllare il resto sì signore e questa è la mia convinzione per quanto bizzarra possa sembrare quando se qualcuno mi avesse detto che quell'attrezzatura esisteva anche dieci anni fa avrei pensato che fossero pazzi signore ma è al momento abbiamo tutti i documenti per dimostrarlo e se pensa che 85 tornado si siano verificati simultaneamente nel mezzo della nostra area di coltivazione ebbene mi dispiace con l'attrezzatura già predisposta a livello internazionale e per quanto bizzarro sia è provato e documentato le forniremo quei documenti per quanto bizzarro sia direi che sono guerre meteorologiche e questo per citare in realtà lo stesso senatore Klerborn Pell che sono la più grande arma mai creata al mondo e questa è l'affermazione del stesso senatore quindi sì sono su questo punto grazie signor Presidente grazie senatore Kohl prima di postare qualsiasi commento invito a visitare la pagina indice alfabetico di cui trovate il link nella descrizione del video con a disposizione migliaia e migliaia di spiegazioni qualsiasi domanda come ad esempio stagioni sole che rimpicciolisce luna capovolta stelle al sud perché non vedo fino all'America effetto Corioli pendolo perché mentono eccetera dove esiste già la risposta viene cancellata grazie a tutti